Mi dà la comunicazione con Londra? Vorrei Mr. Churchill! È Mr. Churchill personalmente all'apparecchio? Yes! Mr. Churchill, ditemi una cosa, la guerra come va? Oh, Miss, tutto va bene, tutto va assai bene, oh yes, all right, della Polonia! Non c'è più traccia, anche la Francia, cambio la faccia, il Lussemburgo è cancellato, Olanda e Belgio, tutto occupato, in Danimarca, più non si sbarca, ca! Del norvegese, le avete prese, come vedete va assai bene, anche Parigi ne conviene, Tutto va bene, tutto va bene! Signorina, non mi interrompa, sto parlando con Londra, con Mr. Churchill! Yes! Mr. Churchill, come van le cose lì sul vostro suol? Oh, Miss, tutto va bene, tutto va assai bene, oh yes, all right! Le bombe piovono, da tutti i lati, cantieri e fabbriche, sono incendiati, i nostri porti, già scompassati, naviglie scorte, tutti affondati, le pance soffrono, per le razioni, più non si dorme, per le incursioni, come vedete va assai bene, anche l'Australia ne conviene, Tutto va bene, tutto va bene!